Il primo luglio presso il Parco della Scienza a Teramo si terrà un evento significativo per il futuro della città. I rappresentanti di RFE e dell'amministrazione comunale si confronteranno con la popolazione per discutere il progetto di rinnovamento della stazione ferroviaria. Questo appuntamento segna l'inizio di un processo partecipativo, un'occasione per i terramani di contribuire attivamente con idee proposte per la rigenerazione dell'area circostante della stazione. All'ora 17 incontreremo insieme ad RFE che è il soggetto attuatore del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria, di rigenerazione urbana di tutta l'area circostante, i cittadini, gli stakeholders per avere un confronto sul progetto, il progetto che è già stato mandato a gara con l'affidamento dei lavori. Siamo nella fase di redazione del progetto esecutivo, quindi sia RFE come soggetto attuatore, ovviamente l'amministrazione comunale e la ditta sono pronte ad accogliere quelle proposte anche di miglioramento e seguire anche le indicazioni che verranno dalla comunità, ovviamente compatibilmente con quella che è la fase progettuale. Il progetto ricordiamo è sostenuto da un imponente investimento di 23 milioni di euro provenienti dal fondo del PNRR e promette di rivoluzionare un'area nevralgica della città. Un risultato straordinario che grazie alla collaborazione con RFE abbiamo messo in atto e messo in campo per la nostra città. Dopo tanti anni di annunci e di promesse partiranno i lavori, partiranno in una prima fase entro il 2024 e poi si svilupperanno tra il 2025 e il 2026. Grazie a tutti!